Ciao a tutti, vediamo oggi come azzerare il service o la vita residua dell'olio a una Opel Mokka, la nuova Opel Mokka modello del 2017 leggermente diverso dalla prima serie allora, scendiamo il quadro, porte, baule, cofano, tutto rigorosamente chiuso andiamo a cercare il tastino menu sulla leva delle frecce e lo schiacciamo, vedete che cambiano i riquadri là in alto andiamo a schiacciare fino a trovare la modalità Auto dopodiché con le frecce andiamo a scorrere il menu a tendina fino a trovare la vita residua dell'olio, 15% per azzerare schiacciamo il tasto di conferma, set control schiacciamo una volta, dice se è sicuro di voler resettare con la freccia passiamo sul sì e schiacciamo ancora una volta il menu di conferma 100% la reset è stata eseguita ok? facile, ciao!